Fermati ti prego, guarda questo video fino alla fine, non saltare subito al prossimo, contempla le immagini, ognuna di esse ha un significato, come l'uomo sotto la pioggia, o la donna dalle scarpe rosse, all'interno di un'auto in corsa, arte e attenzione al dettaglio, è fermarsi a riflettere, sotto un lampione, godendo della passeggiata, tra i vicoli del volgo, guardando attraverso uno spiancino per cogliere la bellezza della natura, mirando a dritta oppure a manca, I dettagli confongono l'immagine, ma non importa cosa o dove guardi, o che tu scorga un quadro lungo l'autostrada, o che tu componga versi che in pochi comprendono, arte è colore, oppurezza di bianco e nero, arte è cultura, arte è l'ironia dell'imperfezione nella prevenzione, arte è movimento, arte è movimento, arte è musica. arte e singolo bene, succedente è musica. arte è